Uniti si può tenere di più, lo sanno bene i comuni di Parre, Gorno e Villadogna che hanno dato vita ad una formazione consortile nell'ambito della sicurezza e della gestione della polizia locale. Dopo un anno di prove e sperimentazioni, nonostante un po' di incertezza iniziale, Parre ha voluto contribuire alla nascita di questo consorzio che vede impegnate amministrazioni e forze di polizia in tema di ordine pubblico. Abbiamo deciso, dopo questo periodo di prova, il 28 in Consiglio Comunale siamo entrati nel consorzio di polizia locale della Val Seriana. Adesso inizierà la fase di organizzazione, noi attualmente siamo senza vigile, però il servizio è continuato, già le pattuglie il primo di febbraio hanno fatto servizio in territorio di Parre. Cercherò di privilegiare alcuni aspetti perché quello che mi è piaciuto nello statuto e nelle convenzioni è appunto questo rapporto. La polizia dipende dal sindaco, lo dice la legge e è chiaro che il sindaco con la sua giunta, con la sua maggioranza darà l'indicazione al comandante per fare un buon lavoro a Parre. Un altro aspetto importante è la disponibilità, la preparazione che ha il Consorzio per l'educazione stradale, quindi ci metteremo da subito in contatto con le scuole elementari in modo che un agente che tra l'altro è anche formato e specializzato per questo tipo di servizio, si mette in contatto con le scuole elementari, anche con le medie, anche con la materna, sarebbe opportuno per fare educazione stradale. Noi abbiamo bisogno di creare dei cittadini consapevoli e rispettosi delle norme. Parre è un comune turistico che confina con importanti realtà amministrative seriane in prima linea nel garantire tranquillità e sicurezza ai cittadini.